È stato un anno molto interessante, molto complicato perché chiudere i conti sull'anno che è passato è molto difficile perché in realtà poi sono le famiglie che non riescono a chiudere i propri conti, quindi il primo elemento è la permanenza della crisi, quindi ancora non è che si vedano molti spirali. Sul piano politico la permanenza della crisi ha fatto sì che anche la politica è vissuta e passata di crisi in crisi. La prima è stata le ultime elezioni che hanno visto un parziale successo con le primarie di Bersani, poi il successo delle primarie è completamente annullato dal governo che non è riuscito a fare. Un altro elemento di novità è stata la rielezione di Napolitano ed è un elemento che peserà anche per l'anno prossimo. Non a caso Napolitano dice o fate le riforme o altrimenti io vi lascio, quindi è un richiamo molto forte che non si è mai visto nella storia repubblicana. Dopo di questo un'altra novità che ha cambiato il quadro politico è stata a mio parere questa un po' discutibile, anzi molto discutibile decisione secca di espellere Berlusconi dal Senato. Non è che si uccide un uomo politico buttandola fuori dal Senato perché la politica è consenso, se uno ha consenso con quel consenso deve fare i conti realisticamente. La quarta a mio parere è Letta, il governo Letta. Il governo Letta segna un cambio generazionale, però mi pare che fatichi a segnare anche un cambio politico. L'ultima novità un po' più eclatante perché è più rivolta verso il futuro è Renzi, che è indubbiamente anche lui un'assoluta novità. E certamente rappresenta un elemento di grande cambiamento nel Paese. Non riguarda direttamente il governo e la politica italiana ma segna un cambiamento fondamentale anche per noi, è l'elezione del Papa argentino, venuto da fuori dal mondo, in Italia. E' un Papa a Roma, è sempre a Roma e quindi segna anche un modo di qualificarsi dei temi e delle priorità da affrontare. Il comune sentire del Paese viene segnato anche dall'avvento di questo nuovo poter.